In una realtà che cambia velocemente, in una realtà dove dalla pandemia all'emergenza profughi abbiamo uno stravolgimento dei bisogni, delle realtà che l'assessorato ai servizi sociali si trova a dover trattare, abbiamo bisogno di un regolamento che ci tenga al passo con i nuovi bisogni e con la grande disponibilità, capacità e maturità del nostro territorio rispetto al terzo settore. Il terzo settore, quindi la società con le sue cooperative, le associazioni di volontariato, ha dimostrato di poter dare delle risposte importanti, mature e questo regolamento che è uno strumento strutturato per coinvolgere il terzo settore nelle decisioni, nelle valutazioni degli interventi del comune, in qualche maniera un atto di fiducia verso il nostro territorio e il terzo settore tutto. Quindi è uno strumento importante, politicamente è stato voluto dal nostro sindaco ed è qualcosa che credo porterà benefici nel tempo alla nostra città.